Venerdì 6 marzo, ore 21.30, sono a Modena, sono in una zona in cui si trova un cinema multisale e diverse attività di ristorazione. Questa è una zona che nei weekend è sempre piena di persone che la frequentano, che vanno al cinema e in questo periodo, visto il decreto del Presidente del Consiglio, anche questa zona ne risente. Il decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus, ha sospeso fino al 3 aprile manifestazioni che comportano affollamento di persone, tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' un po' triste, è un po' triste, è un po' isolante la cosa. Più che altro che è pieno di ristoranti qua, pizzerie, quindi vedere tutto chiuso fa un bel effetto. Senti, ma queste misure di sicurezza fra le persone vengono rispettate? No, non proprio. Ci sono delle persone che rispettano i consigli dati dall'istituzione? Sicuramente qualcuno sì, molti no, ad esempio a Sassuolo dove abitiamo noi ci sono anche bar locali aperti. Allora non vengono tanto rispettati. No, no. Sì, non è una bella sensazione venire qua a vedere un posto che di solito è sempre pieno di gente, chiuso, mette un po' tristezza. Qui sono davanti a una pizzeria sempre molto frequentata durante la settimana ma che in questo periodo sta soffrendo, come tante altre attività economiche della zona, la situazione emergenziale del coronavirus. Questi sono parcheggi sempre pieni durante la settimana ma che in questo weekend restaranno probabilmente vuoti. Questo è un altro locale sempre frequentato il venerdì sera. Non c'è moltissima gente. C'è la gente nel ristorante? Non tantissimo. Cioè, ho forse un po' l'orario però non c'è tantissimo, non è pieno, è un metà più o meno. Il ristorante dentro è comunque frequentato, anche se sono diversi tavoli vuoti, come adesso sto inquadrando. Parcheggi completamente vuoti, il cinema è chiuso. Se la zona del multisala è poco frequentata, altre della città lo sono di più. Ore 22.45, zona pomposa a Modena venerdì sera. Ci sono tantissimi ragazzi qua in giro a quest'ora. Questa qui è una zona di Modena molto frequentata, piena di locali, birrerie, pub. Questo coronavirus stasera? Ma oddio, non... Sembra la situazione? La situazione mi sembra tranquilla, nel senso vedo la gente fuori, quindi mi sembra abbastanza tranquillo. Poi c'è sempre tempo per peggiorare, però per adesso va bene. Quali sono le precauzioni che usate? Bene o male le precauzioni sono quelle che sono state descritte da Conte, dai nostri ministri, dagli organi competenti. Lavarsi spesso le mani, però sì, è importante non farsi prendere dal panico, rispettare bene o male le indicazioni che sono state date. Comunque bisogna, cioè non prenderla troppo alla leggera, però comunque bisogna continuare a fare un po' le attività di tutti i giorni, perché altrimenti se ci si chiude in casa è un problema sia per l'economia che un po' per tutti. Fra i ragazzi c'è consapevolezza per la situazione e delle precauzioni da utilizzare, anche se nelle zone della Movida sembra una serata come tante altre. Senti, ma perché hai la mascherina stasera? Per sicurezza, solo così, però non sono, cioè, sto bene, no, 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 giusto per prevenzione, ecco, anche se dicono appunto che non serva molto, però sì, 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 sì. Come vivi questo periodo? Con ansia, tranquillità? Sinceramente sto abbastanza tranquillo, anche se la situazione non credo sia nella norma, però la vita va avanti e quindi bisogna prendere le giuste precauzioni fino a una certa, ecco. Come state vivendo questa situazione? Eh, siamo un po' barricati, anche i bar un po' si sente questa storia del coronavirus. Però sembra un venerdì come tutti gli altri. Ah, è l'unica cosa? È stare qua in centro, è l'unica cosa da fare, non c'è nient'altro da fare, discoteche chiuse, tutto chiuso. Sono giorni in cui comunque c'è abbastanza tensione perché il problema continua ad aggravarsi, cioè il numero dei contagiati è molto, molto elevato. Cosa dobbiamo fare? Purtroppo abbiamo sentito, purtroppo fortunatamente, se possiamo dire così, abbiamo sentito che i contagiati comunque sono persone che hanno un'età, diciamo, dai 60 in su. Sui ragazzi della nostra età, fortunatamente, contagiati ce ne sono, ma sono quelli che comunque alla fine guariscono. Via Emilia, ore 23.15, venerdì sera. Il mio racconto da Modena in questo weekend, caratterizzato dalla situazione del coronavirus, prosegue, adesso sono in Corso Duomo. Le zone girano? Le cose, sì, comunque c'è casino, soprattutto i giovani che non andando a scuola o all'università, c'è molta più gente in giro. I locali sono pieni, quindi dentro? Meno, no, no, meno del solito. Questa è la zona di Via Gallucci. E vedo questa situazione? Bene, bene, è tutto ok, faccio tutto quello che devo fare e è a posto. Come ti sembra questo venerdì sera? Ottimo. Solito? Sì, sì, totalmente solito, in compagnia con gli amici, vedo tanta gente, mi fa piacere. Per questo patriarcato... Non sono che ti sembrano solo indicazioni di stare fiscali. Eh, non esattamente. Non proprio, no, no, non proprio. La protezione civile, nell'aggiornamento del 7 marzo sul coronavirus, spiega che al momento in tutta Italia 5.061 persone risultano attualmente positive al virus, con 589 persone guarite e 233 decedute. Questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Venendo all'Emilia Romagna, al momento i casi di positività al coronavirus in regione sono 1.010, in provincia di Modena i casi di positività sono 82, tutti i numeri in costante aggiornamento.